Bene, ora il TG8 apre una finestra su un programma di successo dedicato ai giovani che hanno la passione per il canto e per la musica, avete già capito, sto parlando di Dreams, talenti d'Abruzzo. Ieri sul Rete 8 c'è stata la finale, la serata finale e noi abbiamo una graditissima sorpresa qui in studio perché c'è la conduttrice Federica Peluffo, che saluto, benvenuta Federica. Grazie, buongiorno, benvenuto. E poi c'è la vincitrice, la vincitrice di questa seconda edizione, Gaia Di Giuseppe. Ciao Gaia. Buongiorno, ciao a tutti. Allora Federica, parto da te, poi naturalmente coinvolgerò anche Gaia, insomma tante ragazze, tanti ragazzi, tanta musica, tante canzoni, tante emozioni. Cosa rimane? Innanzitutto rimane una grande e bella famiglia perché il nostro obiettivo principale non è soltanto quello di preparare i ragazzi ad un futuro, insomma nel mondo dello spettacolo, in questo caso nel mondo della musica, ma è anche cercare di creare fra di loro aggregazione, di unirli. E credo che ci siamo davvero riusciti, io e il maestro Piero Mazzocchetti, insomma abbiamo proprio questo come pallino principale. Poi d'altronde essendo sempre un concorso succede che c'è un vincitore e questa volta è Gaia. Poi c'è un intero staff, vogliamo ricordare qualcuno? Assolutamente sì, vabbè lo staff è grandissimo a partire dal nostro Antonio Di Giosa, fatta che ci segue sempre e dappertutto, però veramente tanti collaboratori, Ambra Porreca e poi abbiamo avuto una giuria veramente molto molto bella. Abbiamo scelto cinque ragazzi giovanissimi che ormai fanno parte del mondo della musica e a guidare insomma questa cinquina fantastica è stato proprio Michele Fazio, vincitore della scorsa edizione di Dreams. Vado da Gaia, poi tornerò da te Federica. Gaia, tu come ti sei trovata? Tante puntate, tanti ragazzi e ragazze come te. Allora è stata un'esperienza bellissima, è stato un impegno, una crescita impressionante, si è creata una vera e propria famiglia proprio con i concorrenti, quindi con gli altri ragazzi ma anche con lo staff. Vincere è stata per me una cosa di vitale importanza a livello personale perché mi ha dato la possibilità di ricredere un po' in me stessa perché prima di Dreams stavo passando un periodo di tante insicurezze, quindi è stata una vittoria personale e anche appunto canora. Ti abbiamo vista sorridente giustamente, tu hai realizzato in fondo un sogno, il prossimo qual è? Ma vediamo, in realtà abbiamo tanti progetti e cerchiamo piano piano di raggiungerne uno alla volta. Ti faccio questa domanda che non vuole essere tendenziosa, secondo te perché hai vinto? Io studio da ormai 13 anni, ci metto tanta passione, anche tanto impegno, io adesso sto seguendo un corso di didattica a Roma, teoricamente tra due anni dovrei essere laureata e potrei insegnare canto pop, quindi comunque c'è tanta tecnica e tanto studio dietro. Un'ultima cosa prima di tornare da Federica, Gaia forse è banale ricordarlo ma la tua famiglia ti è stata da supporto? Penso siano stati importantissimi e essenziali perché proprio a livello logistico senza di loro non sarei potuta venire in studio ma mi hanno sempre supportato fin da quando avevo sei anni portandomi per la prima volta a lezioni di canto, quindi a loro devo tutto. Grazie, complimenti ancora Gaia Di Giuseppe. Allora Federica non posso non chiederti cosa bolle in pentola adesso? Ecco perché pensano tutti adesso Federica il venerdì va in vacanza, assolutamente no perché subito venerdì prossimo parte l'edizione di Dreams questa volta a Junior. Abbiamo già selezionato veramente 17 concorrenti fantastici che prenderanno il posto appunto di quelli che hanno appena lasciato, di un po' più grandicelli degli adolescenti e Gaia a proposito sarà la prima giudice in studio per i nostri Junior che insomma venerdì prossimo alle ore 21 saranno su questa rete.